Guardi come diventa... Guardi come... Questo video doveva essere qualcosa di totalmente diverso Però quando abbiamo cominciato a modificare le ossa dei personaggi con il tool Digimod Abbiamo cominciato a ridere e facevamo fatica, almeno io, a smettere Quindi spero che questo video vi piaccia nonostante la grande dose di risate Che sto avendo anche riguardando il video per poterlo editare Io non so cosa tagliare perché ogni due secondi c'è una parte che fa morire da ridere Quindi se volete vedere altri video del genere magari lasciate tantissimi mi piace E sicuramente ne faremo degli altri Beh non posso che augurarvi una buona visione Hai una gamba sull'altra sul soffitto Mettiti in terza... Io non muoio mai... Io non muoio mai... Sono una barca a mela... Aspetta stai fai... Hai una gamba sull'altra... Sono una barca a mela... Hai la testa a destra... Guarda adesso... Sono una barca a winzorpe... Winzorpe... Ah lui c'ha la testa Luca e tu sei tutto l'affaffaffato... Inti non è neancora modificato... Aspetta... Mi sa che adesso vorrebbe esplodere di nuovo Hahahaha... Ma dove ce l'ho io da testa?! Eh che cosa hai fatto... Il mio braccio... lo faccio ferma 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 red c'è quel problema con la gamba c'è quel problema con la gamba andai stai fermo stai fermo sei diventato un ombrellone prende il sole prende il sole non muoverti ho cercato di prendere un ombrellone guarda gli ho fatto le tette guarda guarda ma cosa è diventato guarda 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 gli sto allungando un dito gli sto allungando un dito stai fermo guarda il dito guarda 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 ti fai lo scappetto da solo ti fai guarda aspetta che hai il collo troppo corto stai fermo guarda la gamba stai con za più ma no ma no guarda E' fastidio! Guarda il piede! Io sono diventato una gamba! Salve, benvenuti! Guarda, guarda, guarda! Guarda se mi abbasso! Guarda, signor basso! Tu sei diventato un piccone! Ma ora ho capito, ora ho capito chi fa la voce di Pingu e Red quando ride! Vengo, vengo! Vai, vai! Lo so che il video è breve, ma ho voluto tenere questa parte di risate totali staccata dal video che poi farò uscire un po' più avanti con la modalità in sé per sé. Ho voluto separare le due cose perché se avessi messo questa risata all'inizio dell'altro video avrebbe un po' stonato perché sono due cose totalmente diverse. Se questo video vi è piaciuto e vorreste vedere la parte con la modalità effettiva lasciate tantissimi mi piace e io ve la porterò presto. Mi raccomando, oggi dovrebbe uscire la visuale di Isaac sul suo canale che lascerò in descrizione, andatelo a vedere e guardate anche il canale di Indy e di Pruits. Detto questo io vi saluto e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciaone! Ciao!